Le indagini dei carabinieri proseguono a tutto tondo per fare piena luce sulla vicenda della morte di un aquilano Maurizio Cerroni di 54 anni trovato nel suo appartamento nel progetto case di Paganica, morto per overdose anche se l'autopsia farà piena luce sulle cause del decesso. Gli investigatori hanno parlato subito comunque di questa ipotesi. Una fine tragica quella dell'uomo che arriva a poca distanza da quella del fratello Alberto, 57 anni, che come si ricorderà, era stato trovato in stato di decomposizione all'interno dell'ex clinica universitaria dell'Aquila su Viale Duca degli Abruzzi dalla polizia municipale allertata da alcuni cittadini che avevano sentito un cattivo odore. Anche in questo caso si parla subito di droga per cui le indagini dei carabinieri si concentrano sul mondo degli stupefacenti. Nell'appartamento c'era un uomo che non risulta al momento indagato e che aveva trascorso la serata con Cerroni probabilmente per consumare droga. È stato lui ad allertare il 118 che poi ha chiamato i carabinieri ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. L'uomo trovato con Cerroni risulta invece indagato, ironia della sorte, in un altro episodio, in un'altra morte, quella di un giovane aquilano di soli 25 anni, Alessandro Lega. Le indagini dei militari si concentrano ora ovviamente sul giro di stupefacenti presente in città per vedere se c'è in giro una partita di droga tagliata male. L'attività di controllo è fittissima per quel che riguarda i servizi antidroga. Nei giorni scorsi c'è stato anche un arresto.